Adesso chi ha voglia, chi ne ha voglia, noi abbiamo pensato all'iniziativa simpatica per ribadire che questo non è un cantiere, questo è il parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi, questo è il territorio dell'UNESCO. Abbiamo deciso di ridare a questo territorio la dignità che deve avere e perciò abbiamo pensato di piantare alcuni alberelli dove adesso hanno messo delle pacchiere. Chi vuole venire con noi a piantarli, qui ci sono gli alberi e qui si può entrare per andare a piantare questi alberi dove prima già c'erano gli alberi e prima che le pacchiere li disfacessero, questo era un bel prato. Adesso vogliamo farlo ritornare quello che era.